Il laboratorio di nuove tecnologie dell'arte è un laboratorio che forma artisti che si muovono prevalentemente nel campo delle nuove tecnologie, ma non solo. La capacità che acquisisce uno studente che studia, che si forma nel nostro laboratorio sono capacità che gli permettono di affrontare e di muoversi in maniera trasversale in quelli che sono i linguaggi e le competenze che un artista dovrebbe avere. Siamo studenti del corso dell'Accademia delle Arti di nuove tecnologie dell'arte. Questo è il nostro laboratorio. Fondamentalmente noi siamo abituati a questo, a lavorare tutti quanti insieme trasversalmente. Che vuol dire trasversalmente? Vuol dire che io e Emanuele stesso non siamo dello stesso anno, però ci ritroviamo spesso a lavorare insieme con persone del primo, del secondo anno o anche più grandi come del secondo biennio. Una delle cose più importanti per noi è la relazione su cui pensiamo che si basa l'intero laboratorio. Questo ci permette, oltre a lavorare tutti quanti insieme, anche a stringere dei veri e propri legami che poi portiamo avanti negli anni e che ci permettono, secondo me, anche di lavorare sempre meglio. All'interno del laboratorio noi docenti non ci proponiamo come professori, cioè coloro che professano una materia, ma come educatori, come la figura del maestro. Non abbiamo lezioni frontali, ma le lezioni avvengono all'interno di quelli che sono i progetti che il laboratorio tutto affronta, quindi senza distinzione degli studenti per appartenenza di anno di corso, ma insieme il laboratorio affronta dei progetti e i docenti, maestri, intervengono in base alle proprie esperienze per la risoluzione di quelli che sono proprio i contenuti e le tematiche affrontate all'interno del progetto. Quindi anche noi docenti non sappiamo quali sono le direzioni che il laboratorio, che il progetto affronterà, ma le costruiamo, le cerchiamo e le troviamo insieme agli studenti. Nel momento in cui le matricole iniziano ad approcciarsi al laboratorio, con il giorno dei colloqui, in pratica il laboratorio fornisce a ogni persona un patto formativo. C'è un foglio su cui sono scritte tutta una serie sia di regole del laboratorio, ma anche di concetti su cui si basa la nostra didattica. In realtà qui lavoriamo direttamente a dei progetti, in quanto crediamo che la teoria e la pratica vadano di pari passo. In questo scenario i professori, o come li chiamiamo qui maestri, hanno un ruolo diverso, sono delle guide. Quindi sono coloro che indirizzano quello che è il progetto, oppure magari dei pensieri, dei concetti a cui lavoriamo, ma senza mai influenzare troppo il lavoro, che quindi è composto al 90% dai vari studenti e vari iscritti al laboratorio. Quest'anno abbiamo deciso di focalizzarci su quelli che sono i 16 punti del manifesto, preso di ispirazione dalla pubblicazione avvenuta per i 10 anni di NTA. I 16 punti del manifesto sono dei punti che cerchiamo di seguire quotidianamente all'interno del laboratorio. Ad esempio troviamo quello che è l'errore, inteso non come accezione negativa, ma come un qualcosa che in realtà ti spinge e ti sprona a crescere. Individualmente però all'interno della collettività. L'anno scorso, diciamo che per un anno, il laboratorio si è preparato per affrontare Procida. Noi siamo sbarcati ad aprile, appunto muniti di queste cioccolate, dandole in dono ai procidani, chiedendo solamente due cose, una foto e una scansione. Ha impegnato prima di tutto il laboratorio nel concepire l'idea di scansione 3D, di sviluppare un modello che sia, tra virgolette, portatile, perché ci serviva agire su tutta l'isola, che sono 4 chilometri. È stato fondamentale prima instaurare delle relazioni e dare prima dei risultati per far sì che le persone si riuscissero a far scansionare. Di questo progetto noi abbiamo creato le installazioni, abbiamo curato la comunicazione e tutte quelle cose che ci hanno portato poi alla fine a un evento finale, che noi chiamiamo Opera Evento.